Mi chiamo Alfonso e vengo da Corigliano Rossano e ho 57 anni. Beh, ricordo che avevo soprattutto davanti l'incisivo laterale destro che era nero, era il risultato di una devitalizzazione fatta da bambino e quindi ero portato a sorridere poco, cercavo di piegare il labbro destro e di coprirlo. Ecco, sostanzialmente erano legate ad un aspetto estetico e sicuramente anche ad un aspetto di masticazione. E allora quando l'altro giorno sono tornato a casa, quando avevo finito e mi sono guardato allo specchio, sinceramente quasi non mi riconoscevo e la sensazione è stata fortissima, veramente bello. Cioè, come ho detto a qualcuno, mi sembra di avere una Mercedes in bocca. È una sensazione molto bella. Avere tutti i denti che combaciano, quando mastichi, li senti tutti uno sull'altro, è qualcosa di fantastico. Beh, sicuramente sarà diverso d'ora in poi. Penso che ritornando al lavoro, a scuola, mi ricordo che ultimamente poi era veramente un imbarazzo. sorridere, ridere. Poi io sono un insegnante di musica, quindi canto e quando ci sono le note che richiedono di aprire la bocca, lì era veramente imbarazzante. Adesso sarà sicuramente diverso. Penso che abbiano fatto un lavoro eccezionale dal primo momento. Allora io, la prima cosa che dico è, forse non si ha l'idea di quanto qui, soprattutto in questa clinica, nelle cliniche del dottor Palmas, si sia tecnologicamente avanti. Io non ho mai visto fare una devitalizzazione al microscopio, ma non esisteva. Per cui io rassicurerei, chiunque voglia venire, bisogna semplicemente decidere di farlo e farlo. È molto veloce. Di sicuro non è una passeggiata, ma veramente il gioco vale la candela. Tutto è programmato per andare bene e non si va via da qui se non si sta bene.